oggi parliamo della sibilla dei saloni o sibilla indovina nella versione dello scarabeo è un mazzo molto bello pubblicato la prima volta nel 1840 in francia e che vede le illustrazioni fatte da un caricaturista di nome granville per chi non mi conosce sono aless di minty taro vi do il benvenuto sul canale sono una cartomante una tarologa ma anche una coach specializzata in sviluppo intuitivo il che vuol dire che aiuto le persone a capire riconoscere e padroneggiare i propri doni intuitivi in modo da poterli utilizzare come una guida interiore nella loro quotidianità in questo canale trovate letture interattive ma anche tanti esercizi e suggerimenti aiuti su come sviluppare la vostra intuizione e come migliorare la comunicazione con la vostra intuizione attraverso i tarocchi trovate anche altri video su mazzi che uso normalmente in una playlist che si chiama oracoli e quindi potete trovare altri video simili a questo dunque la si chiama sibilla dei saloni io ho l'edizione dello scarabeo che la chiama sibilla indovina viene con questo cofanetto molto grande perché oltre al mazzo vedete anche ben fatto devo dire con la chiusura magnetica oltre al mazzo viene un libro di significati istruzioni eccetera un manualetto scritto da valerio ramponi è un manualetto abbastanza ben fatto nel senso che per ogni carta c'è il significato al dritto al rovescio anche alcune possibilità di combinazioni e poi a un certo punto anche alcune alcune stese devo dire però che sono significati un po concisi quindi secondo me vanno presi un po come spunto come suggerimento perché appunto non si adattano sempre a tutte le situazioni che vogliamo esplorare appunto con con le carte le carte vengono contenute in questo piccola scatoletta all'interno del del cofanetto e adesso ve le mostro carta per carta sono abbastanza leggere come consistenza non sono grandissime e questo è il è il dietro le la sibilla indovina o sibilla dei saloni come concetto è simile alla sibilla italiano ovvero si rifà alle carte da poker francesi per cui ogni carta è legata a un simbolo delle carte da poker quindi è divisa in quattro semi picche fiori quadri e cuori e quindi le picche tendenzialmente sono è il seme dei problemi del delle difficoltà mentre cuori sono legati a vicende sentimentali mentre fiori sono legati a buone novelle sorprese piacevoli mentre i quadri sono più legati alla alla sfera materiale economica e lavorativa dunque dunque iniziamo con il seme di fiori vedete che hanno dei disegni molto dettagliati molto carini e sotto avete il il nome in francese della originale della della carta che però viene ripetuto in varie lingue tra cui l'italiano ai angoli e qui avete il simbolo del della carta da poker quindi il lasso di fiori in questo caso questo è il 23 sono veramente molto molto ben disegnate perché questo insegnatore veramente talentuoso secondo me e vedete che c'è questo sfondo che mi piace molto che da carta da pergamena no antica per dire quindi lo trovo veramente carino questo è il nemico e sono appunto delle situazioni di vita quotidiana questo è un po di denaro poi ci sono dei personaggi come in questo caso che la hanno questo è il dispiacere la delusione questo regalo però ci sono appunto il personaggi legati al paggio alla regina e al re di ogni seme che fanno appunto come nel caso delle tarocchi o delle civille giocano un po il ruolo del di personaggi che possono essere nella possono comparire nella nella situazione che stiamo leggendo questo per esempio la regina questo il re di fiori che è il uomo facoltoso un protettore vedete c'è il simbolo della carta poi abbiamo il cuore messaggio dolce e queste carte possono essere lette sia al diritto che al rovescio e avete appunto nel manualetto di istruzioni significati entrambi i casi vedete interessante perché appunto ci sono proprio è legato al 1800 quindi anche lo stile del palazzi degli abiti sono dell'epoca se il matrimonio e veramente questo è l'amore ovviamente concupido è veramente interessante perché proprio riprendono un po' lo sguardo diciamo l'atmosfera dell'epoca ecco questa è l'attesa questo è il paggio per esempio di cuori e riprende la concetto di visita questa è la regina di cuori questo è il pensionato che è il re di cuori pensionato il cane poi abbiamo il seme di picche questo è il ritardo e secondo me hanno anche come dimensione queste carte a me fanno molto comodo perché sono relativamente piccole questa è la trappola e quindi le maneggio molto bene posso utilizzarne tante sul tavolo insomma ecco poi ho fatto un video precedentemente di cui pongo il link qui al lato dove spiego un attimo la differenza fra questo tipo di sibille e altre tipo le norman e le keeper questa è la lite ci sono due un organista fondamentale uno di quelli che avevano l'organetto per strada una cosa tipica dell'epoca questo è il malato ed hanno un tratto tendenzialmente umoristico anche questa è la morte abbastanza tetra questo è il paggio di picche ed è un giovane uomo bruno quindi danno anche dei tratti somatici questa è la regina di picche questa è la regina di picche la vedova questo è l'uomo di legge il re di picche poi abbiamo quadri messaggio la lettera sono ovviamente anche le carte appunto che rappresentano il consultante o la consultante questo per esempio nel caso del consultante uomo è il consultante altrimenti rappresenta la persona di sesso maschile della più vicino più importante per la consultante questa è il pettegolezzo viaggio ladro la donna cattiva ci sono un po' di carte che insomma riguardano personaggi abbastanza antipatici questo è il militare il re di denari come dicevo ho fatto un video di cui posto il link qui al lato vi invito a guardarlo perché spiega un attimo la differenza questo tipo di mazzo ed altri che potete che sono sempre chiamate sibille che però appunto ha un sistema di lettura diversa io le trovo molto carine le trovate senza problemi le potete comprare tranquillamente non sono reperibilissime bene se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like iscrivervi al canale soprattutto attivare la campanella se non volete perdere altri video in futuro di questo tipo e noi ci vediamo presto ciao ciao